Buonasera, benvenuti alla terza edizione del TG6 che apriamo con il sit-in di protesta a Pescara dei lavoratori dell'Attiva che chiedono la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, inoltrato anche un esposto alla Corte dei Conti. Di fatto noi siamo lavoratori a tempo indeterminato da otto anni a questa parte, fermiamo contratti ogni fine del mese per continuare il lavoro ma siamo sempre le stesse persone, c'è stato anche un nostro collega che ha già vinto questa causa e noi sulla scia ci siamo gettati in una settantina, 60-70 lavoratori che hanno intentato questa causa. Andiamo in tribunale perché sia l'azienda nella veste di Del Bianco e di Michele sia l'amministrazione vecchia e nuova non ci hanno mai ascoltato, non hanno mai preso in considerazione la nostra posizione. Tra l'altro è in atto un concorso di Attiva per l'assunzione di 61 lavoratori. Sì, è un concorso che è uscito una settimana dopo la sentenza vinta dal nostro collega, proprio come se non si volesse nemmeno pensare di voler indire un dialogo con noi lavoratori su questo fatto. Stato di agitazione da oggi e poi? Stato di agitazione da oggi e poi valuteremo altre forme di protesta sempre rimanendo nella legalità perché quello che ci preme a noi è di far sapere ai cittadini quello che sta succedendo. Abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti perché riteniamo che così facendo l'azienda vada incontro a un enorme danno economico che si riverserebbe ovviamente nelle casse del Comune e quindi del cittadino. Parliamo ancora di lavoratori, in questo caso quelli della Santa Croce. Lo stabilimento di Sorgente Santa Croce è pienamente operativo e nessun lavoratore è stato licenziato. è la smentita dell'ufficio stampa della Santa Croce S.p.A. di Canistro rispetto al comunicato del sindacato CISL che stamani aveva annunciato la chiusura dello stabilimento marzicano e il licenziamento di 75 dipendenti in seguito al fallimento del tavolo con la Regione Abruzzo sul personale. Si comunica che durante l'incontro tenutosi ieri presso la Regione Abruzzo non è stato siglato alcun accordo e si precisa che i lavoratori beneficeranno del contratto di solidarietà normalmente in estere fino all'aprile 2016. Questa mattina l'assessore all'agricoltura Dino Pepe ha incontrato i lavoratori del Cotir di Vasto che ieri erano saliti sul tetto del centro di ricerche per le tecniche irrigue perché senza stipendio da 22 mesi e l'assessore ha promesso il pagamento di 14 mensilità entro la fine dell'anno in servizio. Noi cerchiamo entro fine anno di pagare alcuni stipendi arretrati dei dipendenti del Cotir, Crab e Crivea quelli del 2014. Attraverso delle determini che sono state già depositate presso la nostra ragioneria il Cotir avrà a disposizione 660 mila euro come primo impegno di pagamento. Per il 2015 stiamo studiando un piano di riordino complessivo per i centri di ricerca per la costituzione di un organismo unico per la ricerca in agricoltura nella nostra regione per questo il fondo di rotazione avrà una durata triennale. Noi dobbiamo recuperare questi mesi arretrati, questi mesi difficili, questa situazione difficile che si prolunga da tanti anni nei nostri centri di ricerca. Ovviamente questo organismo unico e soprattutto la ricostituzione a livello di capitali a disposizione dei centri di ricerca ci dovrà consentire, ce lo auguriamo tutti, una ripresa e un nuovo vigore per i centri di ricerca. Noi non siamo assolutamente soddisfatti e né rassicurati. Le cifre che oggi ha portato l'assessore conferma delle cifre che erano oramai a conoscenza di tutti ma che nella migliore delle ipotesi ad oggi non sono ancora percepibili da noi lavoratori andranno a coprire solo il 2014. Non ho sentito niente di nuovo per quanto riguarda nuove risorse per la copertura di tutto il 2015. Voglio ricordare che quando si parla di pagamenti degli stipendi e dentro l'assessore ho sentito spesso dire dall'assessore ma anche dai liquidatori il pagamento degli stipendi ma stiamo parlando di pagamento degli stipendi 2014. Quindi noi abbiamo già maturato tutto il 2015 e non ci sentiamo rassicurati. Si torna a parlare di Carichietti questa volta a farlo al Codacons che dice una campagna di boicottaggio per portare alla chiusura di massa dei conti correnti il trasferimento dei depositi da parte dei clienti di Carichietti. Lo annuncia il Codacons lanciando un ultimatum al governo Renzi se l'esecutivo non sarà in grado di garantire rimborsi integrali di azioni e obbligazioni subordinate in favore dei piccoli investitori delle quattro banche salvate cui sono stati venduti titoli inadeguati al loro profilo sarà inevitabile una risposta durissima da parte del Codacons che chiederà a tutti i correntisti di chiudere in massa conti e depositi. Lo spiega il presidente Carlo Rienzi e aggiunge questo perché a fronte delle prove oramai incontestabili e certificate anche dall'Unione Europea circa la vendita di prodotti inappropriati a persone che non sapevano cosa compravano il governo non sta fornendo le giuste risposte e continua a parlare di briciole a indennizzo ai risparmiatori. Ancora sulle banche il nostro coefficiente di solidità è ottimo ha spiegato il vicepresidente della Banca di Credito Cooperativo di Roma Gabriele Gravina partecipiamo al salvataggio dell'Etruria con i nostri fondi ma paghiamo per errori altrui. Daniela Braccani Sulla scia della protesta dei risparmiatori di banca Etruria beffati dal decreto salva banche e divenuti il simbolo dello spettro dei soldi andati in fumo la Banca di Credito Cooperativo di Roma che solo nella provincia dell'Aquila conta circa 6.000 correntisti annuncia pubblicamente la sua solidità nonostante il coinvolgimento nel salvataggio delle banche interessate allo scandalo partecipiamo anche noi della Banca di Credito Cooperativo di Roma al salvataggio della Banca Etruria ma a differenza di altre banche lo facciamo con soldi nostri e paghiamo così errori commessi da altri queste le parole del vicepresidente della Banca di Credito Cooperativo di Roma Gabriele Gravina non solo la Banca di Credito Cooperativo di Roma ma tutto il sistema bancario e non solo per la Banca Etruria ma per le quattro banche che ben conosciamo e abbiamo ben note in questi giorni quindi è un fondo di solidarietà al quale parteciperanno tutte le banche l'anomalia o la tipicità di questo intervento è che le banche di credito cooperativo al loro interno hanno un fondo di solidarietà proprio e quindi intervengono puntualmente quando ci sono problemi di questo tipo all'interno delle banche di credito cooperativo è atipico il doverlo fare anche per banche estranee al sistema del credito cooperativo Quello che si è riunito oggi è il Gota della Banca di Credito Cooperativo di Roma con l'intenzione di rassicurare tutti i suoi risparmiatori e rinsaldare ogni rapporto economico e sociale con i correntisti così Lorenzo Santilli direttore della BCC Roma L'Aquila Santilli lei ha parlato di una banca la Banca di Credito Cooperativo di Roma solida che significa? Solida significa che ha i numeri per garantire a tutti i nostri clienti e soprattutto ai nostri soci la garanzia di essere di poter stare tranquilli perché i numeri che noi rappresentiamo che noi abbiamo garantiscono questa solidarietà e questa forte patrimonializzazione che ci fa essere al terzo posto fra le bianche più solide di media dimensione e fra le bianche più solide d'Italia Ora andiamo a Teramo dopo tante polemiche all'interno del Consiglio Comunale arriva la notizia all'improvviso il Sindaco Brucchi annulla la giunta la zero Elisa Leuz Sindaco finalmente lo possiamo dire avevamo sdata il 15 di gennaio a zeramento della giunta Ma non finalmente la verifica era in corso ho deciso che il 15 gennaio ci sarà la nuova giunta e quindi diciamo durante il periodo natalizio lavoreremo su questa attività accanto alla nuova giunta ci sarà un documento programmatico che stabilirà le attività principali da svolgere nel corso del prossimo anno dell'anno 2016 questa verifica riguarda tutti i ruoli il presidente Milton Di Sabatino ieri sera ha detto chiaramente che il 17 un minuto dopo il voto contrario che ci sarà la mozione della Cardelli rimetterà il mandato nelle mani della maggioranza come è giusto che sia per cui credo che insomma le cose avranno una successione che porterà poi al 15 ad avere il nuovo esecutivo Non è una conseguenza questo annuncio di ieri sera visse le problematiche anche interne? Le problematiche interne sono tutte all'interno del centro-destra non è assolutamente una conseguenza è una cosa che avevo in serbo già da qualche tempo è una decisione che già avevo preso è chiaro che poi ho cercato il momento giusto e opportuno per dire quello che avrei voluto fare che ci sia una vivacità all'interno della maggioranza e all'interno della maggioranza ci sta all'altra parte oggi i movimenti civici le liste civiche sono i punti di forza delle amministrazioni locali considerando che comunque c'è una crisi più o meno diffusa dei partiti questo è sotto gli occhi di tutti lo è a livello nazionale lo è a livello locale a livello locale ancora di più c'è questo movimento c'è questa vivacità che io la reputo positiva se finalizzata ad un obiettivo che è l'obiettivo del bene comune che è l'obiettivo delle problematiche dei cittadini e che non è l'obiettivo della poltrona per ognuno su questo i consiglieri sanno bene che io non sono disposto restiamo a termo e parliamo di sanità nonostante lo sblocco delle assunzioni a tempo determinato all'asl di termo resta l'emergenza personale perché entro fine anno andranno in pensione circa 100 tra medici e infermieri vediamo direttore su oncologia e sulle assunzioni qualcosa si è mosso ma in sostanza come? il nuovo decreto del commissario ad acta che è stato pubblicato adesso noi abbiamo ringraziato perché viene incontro alle esigenze soprattutto dell'asl di termo che è quella che è un po' più penalizzata come personale consente in qualche misura di prorogare tutti i tempi determinati che ci sono oggi e sono oltre 250 persone e in più consente anche qualche piccola nuova assunzione a tempo determinato finalizzata a tamponare i guai che nel frattempo accadono per la mancanza di personale per esempio nell'oncologia nella endocrinologia di atri e altre situazioni che sono un po' più sparse sul territorio si risolveranno così le problematiche all'interno di oncologia e la mancanza dei medici appunto specializzati? si risolveranno seppure in via provvisoria perché ripeto parliamo di persone a tempo determinato ci sono carenze un po' più complesse derivanti anche da meccanismi organizzativi particolari quindi comunque ovviamente il tempo tecnico ti falle queste assunzioni alcune sono disponibilità già ci sono c'è la disponibilità di graduatori esistenti peraltro invece di graduatori bisogna farle bisogna fare le avvisi un po' più di tempo ci vorrà però lascia anche un po' più tranquilli nelle assunzioni a tempo determinato ripetiamo che prima non si potevano fare poi qualcuno le faceva lo stesso tipo noi però era vietato e quindi questo dà un po' più di respiro nel frattempo stiamo andando avanti con quelle a tempo indeterminato per esempio degli infermieri adesso uscirà il bando degli OS che vanno a risolvere un po' più stabilmente la situazione però ricordiamoci pure e non vorrei far sorridere che nell'anno 2015 dall'ASA di Terno vanno in pensione 100 persone quindi qui è un po' un serpente che si morde la coda mentre noi cerchiamo di assumere nel frattempo le persone vanno anche in pensione beh vabbè vediamo di risolvere anche questo Restiamo in tema si è parlato dei problemi dei lavoratori nella sanità abruzzese oggi a Montesilvano al quinto congresso provinciale della Fialz il servizio quinto congresso provinciale della Fialz di Pescara Gabriele Pasqualone e tanti problemi della sanità Fialz in primo piano da anni per essere al fianco degli operatori sanitari ma anche dei cittadini In questo periodo ci troviamo in un periodo veramente buio è un periodo dove i contratti di lavoro che vengono applicati soprattutto sugli servizi appaltati è una cosa vergognosa che impoverisce soprattutto i lavoratori e limita anche la qualità che viene erogata dei lavoratori sono oramai da cinque anni senza rinnovo contrattuale le aziende ha carenza di lavoratori quindi sono costrette a lavorare il doppio per prendere di meno una cosa vergognosa è fuori la grazia di Dio qui si va a colpire veramente la parte più iceto più debole si va a colpire le persone anziane si va a colpire quei lavoratori che da anni si trovano al quarantesimo anno di servizio non riescono ad andare in pensione è una cosa veramente fuori dalla grazia di Dio che noi come Fialz rivendichiamo il rispetto delle norme il rispetto alla dignità della persona il rispetto alla dignità del lavoratore il rispetto soprattutto dell'assistenza sanitaria che è un diritto sacrosanto che le assunzioni non avvengono e quelle che avvengono tramite queste ditte appaltanti che i servizi che vengono rogate alle aziende pubbliche sono un contratto veramente povero è un contratto che secondo me è inapplicabile perché qui arriviamo alla follia applicare dei contratti che non hanno più niente a che vedere col servizio sanitario nazionale e io mi chiedo ma questi politici dove stanno queste persone questi dirigenti che stanno nelle grandi strutture che a noi dirigono come la regione come il ministero sorvegliano questo modo di applicare questi contratti questi servizi che vengono erogati ora parliamo di festival di cinema e giornalismo le querele non possono fermare il diritto di informare così il procuratore capo della direzione nazionale antimafia Fausto Cardella è intervenuto al dibattito insieme ai giornalisti primo di Nicola del Fatto Quotidiano.it e Giuseppe Guastella del Corriere della Sera il servizio di Germana Dorazzi Si è parlato del rapporto complesso a volte fumoso tra magistratura informazione e politica nella sezione speciale dedicata al giornalismo dell'Aquila Film Festival 2015 nell'ambito del dibattito partecipato in seno al quale sono intervenuti i giornalisti Giuseppe Guastella del Corriere della Sera primo di Nicola del Fatto Quotidiano il procuratore capo della direzione distrettuale antimafia d'Abruzzo ha definito poco chiari i presupposti che regolano il rapporto fra cronisti magistrati e politica Il rapporto è complesso perché sono poco chiari i presupposti ma se si partisse da quelli che sono i compiti di ciascuno e soprattutto se si partisse dal concetto che l'informazione la corretta informazione non è solo un dovere del giornalista ma è un diritto di tutti i cittadini averla sarebbe molto più semplice e così la stampa deve fare il suo lavoro deve dare un'informazione ma anche la magistratura non deve avere nei confronti della stampa né diffidenza né tantomeno una forma di preclusione certo oggi la situazione sia sociale sia la situazione normativa pone dei limiti e secondo me è auspicabile che vengano parliamo ad esempio delle querele temerarie chi è potente chi è avvocati spesso metti in soggezione il giornalista questo non guardi il giornalista che fa correttamente il suo lavoro non deve essere in soggezione per una querela e così come il magistrato che fa correttamente il suo lavoro non deve essere preoccupato della gente che possa denunciarla se tu fai bene il tuo lavoro non devi avere questo tipo di preoccupazione una delle prime regole che deve osservare il magistrato di non parlare mai delle indagini e dei procedimenti che sono in corso e io mi ci attengo allarghiamo lo sguardo invece ancora di più c'è una legge regionale una proposta di legge regionale di fare un osservatorio sulla legalità a livello regionale sulla ricostruzione il proponente Movimento 5 Stelle ma è firmato anche da altri consiglieri di altri partiti insomma abbastanza condivisa questa cosa parla soprattutto di un'emergenza che riguarda ad esempio il territorio del Vastese con le aree di confine lì la criminità organizzata c'è è inutile legarlo sua opinione sulla legge e sulle iniziative di natura politica ritorno visto che è il tema della giornata su quello che è il comportamento deontologicamente corretto del magistrato di esprimersi dal dare valutazioni su compiti e attività che non sono le sue quindi la politica faccia il suo mestiere qualunque cosa faccia non è oggetto di valutazione né di commento da parte di un procuratore parliamo dei danni del maltempo verrà riaperta al traffico veicolare a partire dalle ore 18 di domenica 13 dicembre prossimo la strada statale 650 a fondo Valle Trignine interessata ai lavori di sistemazione di una carreggiata crollata al chilometro 69 e 9 il capo di compartimento della viabilità per l'Abruzzo Antonio Marasco ha firmato l'ordinanza di riapertura dopo che lo scorso 27 settembre era stata chiusa al traffico tra il chilometro 59 e il chilometro 73 a causa della piena del fiume Treste che aveva eroso parte della carreggiata una buona notizia per quanti utilizzano la Trignina che collega la costa adriatica al Tirreno attraversando le città di Isernia e Venafro è stato presentato questa mattina nella sala consigliare il progetto Strade Sicure portato avanti dall'amministrazione comunale di San Giovanni Teatino vediamo Sindaco Marinucci oggi in sala consigliare qui a San Giovanni Teatino si parla di questo progetto Strade Sicure Sì è un fondo nazionale al quale abbiamo partecipato la Regione Abruzzo ha ridistribuito questi fondi noi eravamo pronti a recepirli nella misura in cui stiamo realizzando una pista ciclabile che attraversa gran parte nel nostro territorio un territorio in piano quindi abbiamo ritenuto opportuno che questa messa in sicurezza del territorio passasse anche per una pista ciclabile inoltre erano anche dati a sostegno della sicurezza stradale quindi interventi di messa in sicurezza della sicurezza stradale parliamo anche di sostenibilità in questo caso beh una pista ciclabile e parchi sicuramente sono sostenibilità nello specifico i fondi sono stati usati per la pista ciclabile credo che sia uno dei nostri cavalli di battaglia questione traffico a San Giovanni Tiatino resta però qualche problema per via di una viabilità molto intensa sì purtroppo San Giovanni Tiatino per conformazione è già tagliato a fette dalla ferrovia l'assatrezzato l'aeroporto adesso i centri commerciali inseriti all'interno hanno dettato queste criticità noi chiaramente stiamo già lavorando con un fondo di un milione oltre due milioni di euro per recuperare parte di questa viabilità e dirottare il traffico tutto sull'asse viario di via poi qui in tutta la zona commerciale cercando di bypassare il centro cittadino San Giovanni Tiatino a breve l'anno prossimo sicuramente i primi mesi dell'anno prossimo daremo questa notizia ai cittadini di San Giovanni Tiatino Open Day al liceo scientifico aeronautico di Corropoli domani a partire dalle ore 16 oltre alle classiche attività è stata presentata una novità per l'anno scolastico 2016-2017 in collaborazione anche con l'Università degli Studi di Teramo vediamo doppia presentazione dell'Open Day dell'Istituto Aeronautico di Corropoli ieri mattina all'interno dell'aeroporto di Pescara questa mattina presso l'Università di Teramo alla presentazione svoltasi presso l'Università di Teramo la novità di quest'anno gli studenti che si iscriveranno nell'anno scolastico 2016-2017 al liceo potranno scegliere di approfondire l'ambito delle biotecnologie il cui piano formativo è concertato con l'Università di Teramo corso di laurea in biotecnologie durante la presentazione svoltasi invece all'aeroporto di Pescara il generale Federico Sepe presidente della fondazione Val Vibrata College oltre a presentare l'attività del liceo ha voluto sottolineare che la fondazione non ha alcun fine di lucro è una fondazione non ha fine di lucro registrato alla prefettura di Teramo con degli ideali che appunto porto fra gli altri alla formazione della cultura dei giovani la nostra scuola porta avanti la cultura e i valori e il proseguo dei ragazzi stessi che noi ce l'abbiamo sia nelle scuole militari nelle accademie soprattutto l'Accademia Aronatica di Pozzuoli di cui uno di questi ragazzi attualmente è anche capo corso e poi tutti gli altri che sono praticamente studenti nelle più prestigiosi università italiane come la LUIS la Bocconi il Politecnico di Torino e quant'altro Qual è l'offerta formativa? L'offerta formativa si tratta praticamente di un liceo scientifico con due indirizzi aeronatico ed economico quindi nel biegno tutti i ragazzi fanno anche la parte aeronatica quindi fanno un po' di teoria del volo fisica del volo nel triennio invece poi si possono scegliere diciamo se andare verso l'indirizzo aeronatico o l'indirizzo economico nell'ambito dell'attività aeronatica di cui io sono un insegnante delle materie aeronatiche i ragazzi hanno a disposizione un simulatore di volo inoltre abbiamo anche un simulatore di torre di controllo dove c'è un ragazzo che fa finta di stare in torre di controllo e un certo numero di ragazzi che simulano di essere dei piloti che stanno a bordo degli aerei parlano fra di loro in inglese con le frasiologie e il tutto viene rappresentato su un grosso schermo dove si vedono questi aerei che volano che atterrono che decollano e c'è tutto appunto in inglese quindi è anche molto interessante da questo punto di vista si avvicina il Natale ci sono i regali da fare allora vediamo come se la sono cavata i terramani in tempo di crisi in occasione delle festività natalizie per pranzi cene e regali spenderà di più o di meno rispetto agli anni passati di più sicuramente non credo più o meno come al solito non cambierà il budget insomma no in linea di massima no è diminuito per quello che sono i costi per i regali da fare sono diminuiti anche il range di persone al quale regalare un pensierino fare un dono per questa festività prima magari oltre ai familiari si regalava qualcosina agli amici ora invece si tira un po' la corda e ci si limita a quelle che sono le cose necessarie di meno di meno di meno dell'anno scorso comunque li farà i regali ma pochi però ai nipoti le persone più di famiglia secondo me è diminuito comunque li farà i regali sì sì certo pensierini per tutti però li farò cerchiamo comunque di mantenere lo stesso budget per il pranzo e le cene di Natale e poi magari risparmiando sui regali no no è diminuita la grande stiamo sotto solo ai genitori acquisterai in centro al centro commerciale o fuori Teramo? in centro di solito mi muovo in centro acquisto nei negozi qui classici negozi qui in centro così almeno un pensierino anche allora lo facciamo famiglia fidanzata e miglior amico un po' ovunque ci sono preferenze per te dove conviene un po' di più insomma noi di solito sempre a Teramo al centro per il corso anche l'occasione di andare un po' per il corso ci facciamo unire insieme e via l'atmosfera il centro commerciale non è così vissuta l'atmosfera natalizia dove è più economico la cena e il pranzo di Natale a casa in famiglia in famiglia sì sicuramente la cena della vigilia si cucinerà un po' di pesce sempre a casa sempre a casa noi facciamo sempre il Natale a casa comunque sempre a casa in famiglia si fa il cenone il pranzo casa in famiglia sì sì per forza sì in famiglia risparmio totale proprio anche un piatto di spaghetti va bene ora andiamo a Giulianova domani alle 17.30 al Cursal sarà presentato il nuovo libro di Sandro Galantini che si intitola Giulianova tra storia e memoria vediamo Sandro Galantini il suo nuovo volume Giulianova tra storia e memoria come presentarlo è un volume che è un affascinante itinerario in 70 anni di storia tra il 1870 e il 1940 180 pagine 200 fotografie 30 tra mappe cartografie progetti per avere uno sguardo a 360 gradi sulla storia di un centro abruzzese Giulianova appunto che ebbe innegabili primati sicuramente un viaggio denso intrigante fascinoso per capire di più e meglio cosa fu Giulianova in quel periodo il volume in quanti capitoli è diviso? sono sei capitoli si parte dall'urbanistica si attraversa la storia della banda musicale le cui origini risalgono agli anni 30 dell'800 e poi ancora musicisti compositori la corale le attività imprenditoriali orsini dei martis crocetti gli anni la storia del lungomare la storia del cursal le colonie marine e infine il turismo balneare ora apriamo la pagina dello sport parliamo di Pescara emergenza difesa per il Delfino dopo i problemi accusati ieri oggi pomeriggio nel corso della seduta di rifinitura si è bloccato Fornasie per un risentimento all'adduttore domani non sarà in campo contro la Virtus Sentella al pari di Campagnaro che sarà forza a disposizione per il derby di Lanciano sabato prossimo Fiamozzi Bunozza e Mandragora si contendono una maglia al fianco di Zuparic e intanto il tecnico Massimo Oddo parla dell'importanza della gara di domani all'Adriatico e non vuole sentire parlare di involuzione del gioco Sentiamo Io non vedo questa involuzione sinceramente nel senso che i problemi che stanno emergendo adesso bene o male li abbiamo sempre avuti non è che la prima volta che abbiamo problemi nel giocare fuori casa quindi non è una cosa nuova nel senso sono i nostri limiti li riconosciamo io credo in questi momenti la cosa positiva è che bene o male io so perfettamente quelli che sono i nostri problemi sarebbe molto più preoccupante se io non conoscessi quelli che sono quelle che sono le problematiche ma conoscendole alla perfezione ci stiamo lavorando per cercare di migliorarci domani per noi è una partita complicata da prendere in forte considerazione come ogni partita noi dobbiamo fare e domani ancora di più perché sappiamo benissimo che viviamo un momento di difficoltà quantomeno per quanto riguarda i numeri cioè i risultati non per quanto riguarda il gioco e ci può stare giocare una partita meno bene ma quantomeno dal punto di vista del gioco io non credo che ci siano dubbi che questa squadra esprima un buon calcio a volte di più a volte di meno ma alla base c'è il fatto che comunque ha un'idea di gioco fa sempre bene o male divertire il pubblico e quindi quella è una base e una nostra convinzione che deve rimanere fermo restando che poi dobbiamo andare a migliorare quelli che sono i nostri difetti e quindi sarà una partita difficile sarà una partita importante per il momento per la classifica per i punti vogliamo fortemente rimanere attaccati alla zona playoff e non uscirne e quindi faremo di tutto per per vincere questa partita in battuta da 12 giornate la Virtus Entella arriva in Abruzzo in gran forma con gli stessi punti del Pescara avendo incassato solo 4 gol nel corso di questa striscia positiva e allora ci ascoltiamo anche la presentazione della partita del tecnico Alfredo Aglietti sicuramente mi aspetto un Pescara che partirà forte Pescara è una squadra forte una squadra tecnicamente molto valida con giocatori veramente bravi soprattutto in mezzo al campo ma anche davanti perché Caprari la Padula Benali insomma ne hanno tantissimi Verre hanno giocatori veramente in grado di poter trovare anche la giocata estemporanea la giocata singola non solo nel collettivo sono validi ma sono molto bravi anche a livello singolo quindi dobbiamo stare attenti non ci possiamo assolutamente distrarre una squadra che ha un grande organico una squadra costruita per puntare alla promozione stanno attraversando un momento un po' particolare sicuramente hanno un rendimento un po' alterno in trasferta rispetto a quando giocano in casa perché comunque in casa hanno un ampio una sicurezza diversa e proveranno sicuramente a metterci sotto e noi dovremmo essere bravi a non permetterglielo ecco nel turno in settimanale in queste ultime partite ha avuto modo di ruotare un po' i suoi giocatori far cambiare un po' rifiattare anche qualche pilastro chiedo domani che tipo di scelte farà non c'è sesto perché si è fatto male potrebbe tornare già di dal primo minuto ma vediamo fino all'ultimo insomma la possibilità di valutare quelle che possono essere le condizioni e le soluzioni migliori è una partita difficile proprio per il discorso che dicevamo prima perché loro hanno giocatori molto bravi tecnicamente e molto rapidi quindi ci sta anche che magari noi soprattutto all'inizio possiamo scegliere un centrocampo un po' più muscolare diciamo così quindi per cercare di farli sfogare per poi eventualmente durante l'arco della gara cercare anche di mettere giocatori che hanno nella qualità la loro arma migliore per sfruttare magari qualche spazio in più che ci potrebbero concedere nella ripresa se le cose per loro non dovessero andare bene ed ora la Virtus Lanciano Domenico Di Cecco non sarà della partita d'Avellino è stato respinto il ricorso della Virtus che puntava a un contenimento della sanzione così domani il centrocampista sconterà il terzo e ultimo turno di squalifica fermati dal giudice sportivo anche Vastole Di Matteo e ancora senza gli infortunati a Menta Ferrari Di Matteo sarà ancora emergenza per l'allenatore Roberto D'Averza che anche contro gli Irpini si affiderà la vena realizzativa di Antonio Piccolo che ascoltiamo in queste interviste Antonio Piccolo gol settimo stagionale in questa gara col Cagliari però un gol un po' amaro che non è servito per rimettere sui binari giusti questa partita ma sinceramente l'ultima cosa che penso è di aver fatto gol penso invece che magari potevo fare qualcosina in più per dare un contributo maggiore ai compagni di squadra di poter raggiungere questo pareggio perché comunque siamo andati sul 2 a 1 avevamo magari messo in difficoltà all'inizio del secondo tempo con un atteggiamento diverso il Cagliari cercando di essere un pochino più aggressivi e niente c'è c'è rammarica della sconfitta quello sicuramente ma sappiamo anche che la salvezza del Lanciano non passa non passa vincendo contro una squadra del genere quindi questo è un segnale e un segnale ci portiamo a casa di buono la voglia di recuperarla ma Luccio nel primo tempo molto bene direi nella ripresa come mai questa differenza nel Lanciano tra i due tempi ma all'inizio abbiamo cercato magari di impostare un certo tipo di partita e abbiamo visto che comunque siamo andati sotto di 2 gol ha portato pochi frutti e nel secondo tempo si è cercato di cambiare totalmente l'atteggiamento e all'inizio ci ha ripagato comunque siamo andati sul 2 a 1 eravamo più aggressivi il Cagliari magari giocava meno rispetto a quelle che erano state dei frasseggi del primo tempo e poi è chiaro che poi se lasci qualche ripartenza attaccanti del genere ti fanno male sarà un teramo al gran completo quello che sfiderà domani alle 15 la Pistoiese al Bonolis il tecnico Vivarini che sconterà la prima delle due giornate di squalifica potrebbe riproporre l'11 base ripristinando vecchie gerarchie con Capitan Speranza e perrotta nel trio di centrali Scipioni sulla corsia di destra tra i toscani assenti sicuri il capitano di Bari Placido Cruz Piscitella e Speziale appena 18 i giocatori convocati dal tecnico Alvini tra cui Taddei che non è al meglio sul momento del Teramo le parole del vice allenatore Biancorosso Zambardi abbiamo voglia di rivalza ogni domenica poi i motivi per i quali i risultati in casa sono diversi da quelli fuori non l'abbiamo ancora capito l'importante adesso è lavorare al massimo per fare più punti possibili per arrivare a gennaio con una classifica decente non sottolineiamo il fatto che è comunque una squadra che al di là dei risultati negativi fuori casa e sei sconfitte è una squadra che comunque ha 18 punti quindi non è tutto da buttare quello che abbiamo fatto fino adesso è vero che con qualcosa in più probabilmente adesso godiamo di una classifica più tranquilla ma è anche vero che quando sei costretto a recuperare punti per fare bene il pareggio può servire a poco e se ci mettiamo tante componenti che siano quelle psicologiche che ti portano comunque a cercare di vincere una partita anche al 95esimo quando magari un pareggio può bastare poi il rischio di perderla come è successo a Rimini è vivo quindi credo che siamo sulla strada giusta per cercare quantomeno di prendere più punti possibili in queste due partite che chiuderanno questo in fausto ormai lo reputo più in fausto 2015 per cominciare un 2016 sicuramente migliore c'è una grossa motivazione da parte di tutti per fare risultato e per uscire da questa situazione che è pesante per tutti ci rendiamo conto che è pesante per tutti ma nessuno ripeto nessuno sta qui per per fare la presenza nessuno dei 24 ragazzi dello staff della società siamo qua per fare un campionato decente a questo punto arriviamo dove dobbiamo arrivare poi vediamo intanto pensiamo partita per partita a dare il massimo di noi in tutto e con lo sport concludiamo anche la terza edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna domani alle 14 buonanotte